Io sono Mike Birra, questo è Zucchero Spinato Podcast e oggi vi voglio raccontare la storia di un immenso artista. Cantante e polistrumentista da prima, grazie alla sua dedizione e immensa passione diventa anche musicologo di fama, ma soprattutto a cui dobbiamo il raggiungimento di un primato e gli approfondimenti di diversi studi. Oggi vedremo insieme la storia che portò Demetrio Stratos ad essere la prima persona in grado di eseguire una diplofonia con la sua voce. D'adulto ricorderà la sua infanzia ad Alessandria, ma Alessandria d'Egitto, dicendo che l'aveva vissuta come un facchino in un albergo internazionale, in grado di vivere l'esperienza dei viaggiatori e di assistere al traffico delle varie culture in un Mediterraneo ricco di diverse etnie e crocevia di intense pratiche musicali. Con la fortuna in più di assistere, grazie alla famiglia cristiana ortodossa, fin da piccolo alle cerimonie accompagnate da musiche religiose bizantine e musica araba tradizionale. Demetrius si trasferì a Milano nel 62 e nell'anno successivo formò appunto in quel di Milano un gruppo musicale studentesco di soul blues e rhythm and blues e fece esperienza come turnista in diversi studi di registrazione, ma fu nel 1966 che si con la prima storica band con cui iniziò davvero a far parlare di sé, unendosi come pianista e voce solista al complesso I Ribelli, con i quali rimarrà fino al 1970. In seguito alla pubblicazione del singolo Daddy Song, sotto quella che fu l'etichetta numero uno, questo è il nome dell'etichetta appunto numero uno, di Lucio Battisti che decide insieme al batterista Giulio Capiozzo di fondare gli area e di intraprendere la strada del progressive rock. Piccolo aneddoto, la numero uno è appunto una casa discografica fondata da Mogol, suo padre Mariano e dal produttore Alessandro Colombini, in seguito a delle divergenze con la loro precedente casa discografica, ovvero la Dischi Ricordi. Fondata con sede a Milano nel 1969, viene venduta alla fine del 1974 alla RCA italiana per una somma totale di 400 milioni di lire, andando avanti come marchio fino ai primi anni 90, pubblicando per la maggior parte i dischi di Lucio Battisti. Nel 2020 la Sony decide però di riproporla sotto il nome di RCA numero uno, pubblicando diversi album, tra cui anche per nomi di spessore come Con la pesce di Martino, Io sono un cane e La rappresentante di lista, chiusa parentesi per quanto riguarda questa casa discografica. Nel 1978 Stratus decide però di lasciare gli area al fine di concentrarsi unicamente sul suo strumento principale e oserei dire che si dedicò alla ricerca vocale in maniera maniacale. Lo stesso anno John Cage, uno dei musicisti più influenti del Novecento per quanto riguarda la musica contemporanea, lo invitò a tenere più concerti in quel di New York, dove rimase fino all'anno successivo. Demetrio non si limitò agli strumenti che sapeva suonare magistralmente, come la fisarmonica e il pianoforte, che iniziò a suonare fin da piccolo, per poi dedicarsi anche all'ammond, piccola nota personale perché adoro questo strumento, ma divenne un vero e proprio visionario della sperimentazione vocale e, come diranno più avanti gli studiosi, fece del suo stesso corpo uno strumento musicale, arrivando a riscrivere quello che sono i limiti della capacità umana. Il professore Franco Ferrero, che presso il Centro Studi per le Ricerche di Fonetica del CNR dell'Università di Padova, analizzò gli effetti che Stratos riusciva a produrre, ammettendo. Stando a quanto ho riscontrato durante l'emissione, le corde vocali non vibrano. La frequenza era molto elevata, solitamente le corde vocali non riescono a superare la frequenza di 1000-1200 Hz. Nonostante ciò, Demetrio otteneva non uno, ma ben due fischi disarmonici. Uno che da 6000 Hz scendeva di frequenza e l'altro che da 6000 Hz saliva. Non si poteva supporre, quindi, che un fischio fosse l'armonico superiore dell'altro. Constatai anche l'emissione di tre fischi simultanei. Ma cerchiamo di capire un po' meglio. Stratos, in un primo momento, si dedicò completamente agli studi dell'utilizzo della voce, come già detto, incontrando esponenti della black music statunitense e studiando le modalità canore dei popoli asiatici, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Padova, tra il 1976 ed il 1978, studiando come molti di loro riuscissero a modulare la voce in modo da renderla uno strumento a loro disposizione. Infatti quella di Stratos fu una vera e propria ricerca su basi scientifiche. Il cantante sviscerò infatti dall'interno diverse tecniche per capire come funzionasse la propria estensione vocale, che lo porteranno appunto ad essere il primo cantante al mondo a riuscire a produrre con la sua voce una diplofonia, ovvero l'emissione simultanea di due suoni dalla laringe su vibrazioni diverse. Demetrius purtroppo ci lasciò l'età di soli 34 anni, proprio il giorno prima di un concerto che avrebbe potuto salvargli la vita. Purtroppo nel momento clou della sua carriera, Stratos, fu colpito da una grave forma di anemia che lo costrinse a un ricovero presso il Memorial Hospital di New York, trasferito dal Policlinico di Milano. La notizia si diffuse in pochissimo tempo, così Gianni Sassi, parogliere degli area, decise di organizzare un concerto per raccogliere i fondi che sarebbero serviti per garantirgli la costosa degenza, in attesa del necessario trapianto di midollo osseo. All'iniziativa aderirono fra gli altri Eugenio Finardi, Angelo Branduardi, Antonello Venditti, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, la PFM, Banco del Mutuo Soccorso, gli Schiantos e gli stessi area. Ma le condizioni di Demetrius si aggravarono più rapidamente del previsto, e l'ennesimo gioco beffardo del fato lo portò via, come detto, proprio il giorno prima del concerto, che divenne quindi un tributo alla sua memoria, andando in scena davanti a circa 60.000 spettatori, il primo tributo di una lunghissima serie. Bene, direi che per oggi è tutto, se ho sbagliato dei termini vi prego di scusarmi, io sono un appassionato di musica che desidera condividere con voi le cose che maggiormente mi interessano, cercando di farlo sempre nei migliori dei modi. Like se il video ti è piaciuto e dimmi qui sotto nei commenti cosa ne pensi, se conoscevi questa storia e questo incredibile artista. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, perché porto storie e curiosità tutti i giorni dal mondo della musica. Grazie e al prossimo episodio.